...eventi dedicati alla poesia il 21 marzo, io ne ho contati almeno due o tre, uno di questi al drugstore organizzato da Esculino Poesia. Io ho voluto portare stasera in trasmissione, ho insistito molto, devo dire, Marco Colletti che ha tenuto un po' il discorso introduttivo a questa giornata, un discorso molto interessante perché ha avuto un unico e importante obiettivo, quello di dare attualità alla poesia, trovarne un senso nel mondo d'oggi, ecco anche perché facevo questo riferimento ovviamente alla guerra, alle situazioni particolari che stiamo vivendo. Marco ce l'ha messa tutta proprio per cercare di plasmare come si fa di solito negli incontri di poesia, retorica, un po' gonfia di retorica, citando questo, quel poeta, anche nel discorso di Marco ci sono state citazioni e però appunto sottolineando quanto oggi è importante e io aggiungo decisivo rimettere in pista una poesia che dia all'umanità ancora una possibilità di riconoscimento. Allora Marco Colletti e io lo saluto, lo ringrazio di essere qui ai nostri microfoni, non ti propongo Marco di rifare lo stesso discorso però sicuramente ce lo puoi un po' riassumere o meglio diventa ancora più prezioso perché ci avrai ragionato, avrai un po' raccolto anche i feedback che ti sono arrivati. Prego, ti lascio la parola. Sì, intanto ti ringrazio, saluto tutti quanti, saluto Giorgio, lingua glossa, mio compagno di viaggio questa sera. Allora, sì, noi come ha detto Fabio abbiamo organizzato con la mia associazione Squilino Poesia di cui io faccio parte del direttivo, questa giornata mondiale della poesia che si è articolata in due momenti, la mattina e poi un evento serale. La mattina abbiamo pensato di fare una cosa un po' diversa, cioè di portare, diciamo che l'intento generale di Squilino Poesia è quello di portare la poesia anche nei luoghi archeologici, quindi la valorizzazione anche di alcuni luoghi particolari della città di Roma. Nel caso specifico abbiamo voluto portare la mattina questa manifestazione all'aperto con un evento chiamato Ludi Poetici e si è trattato appunto di una passeggiata, di un percorso, quindi di una poesia itinerante in cui i poeti che hanno partecipato hanno letto durante le soste, nelle varie stazioni, in alcuni punti chiave del parco archeologico del Colleoppio, in quanto originariamente la manifestazione doveva toccare anche altri punti archeologici, però insomma si era sovrapposta a una grande manifestazione contro la mafia e quindi abbiamo scelto il Colleoppio che è il parco che ci ha accolto e ci sono stati vari interventi, performance e quindi anche la presenza di pubblico, non del settore, di curiosi, di persone che si sono affassionate e questo voleva essere appunto il nostro intento. La sera invece abbiamo fatto questo evento al Drag Store Museum che ormai tutti noi del mondo della poesia conosciamo in quanto è diventato effettivamente un polo culturale fondamentale per la città di Roma soprattutto a partire dallo scorso festival, dalla scorsa rassegna, cioè poesia lingua viva e organizzato appunto dalla sovrintendenza speciale di Roma nella figura del sovrintendente Daniela Porro di Alessio De Cristofaro che è il direttore del Drag Store Museum di Paola Cramadre e Giulia Conti che appunto ci hanno assistito e tutto e per tutto ci hanno ospitato e ci hanno addirittura permesso di fare un evento conviviale con un banchetto che appunto abbiamo offerto e che ha accolto tutti i presenti, tutti gli ospiti un po' come nel simposio di Platone si è mangiato e si è parlato di poesia e in realtà appunto Fabio ha detto che io nel mio discorso iniziale ho fatto molte citazioni ma non è vero pochissime, però non hai fatto no perché sono partito appunto invece da una cosa particolare cioè sono partito da una filastrocca di un maestro elementare dei primi del Novecento che è Renzo Pezzani e che ha dedicato tutta la sua vita alla scrittura per i bambini quindi molte di queste sue filastrocche probabilmente le avremo anche imparate a memoria noi da piccoli sui libri di scuola e perché ho scelto la filastrocca quindi un tipo di poesia come vogliamo dire stucchevole, fatta di rime molto facili di immagini anche quotidiane però diciamo di immagini quotidiane valorizzate in modo quasi sgargiante come se gli oggetti quotidiani nelle filastrocche assumessero un impatto molto più vivido rispetto alla realtà ho scelto questi, partito da questo perché appunto la filastrocca è lo strumento il primo strumento poetico con cui un bambino si confronta e un bambino di fronte ad una filastrocca percepisce fondamentalmente due cose uno che esiste un modo di parlare diverso dal parlato e quindi quasi musicale e l'altro che ci sono delle immagini quotidiane che sono appunto enfatizzate e valorizzate dai suoni l'altra cosa su cui ho posto l'accento è che appunto i bambini quando recitano le filastrocche si sentono accettati vengono applauditi dai genitori, dai parenti le recitano nei teatrini delle scuole si sentono amati e questo è l'inizio di quello che dovrebbe fare la poesia cioè farci sentire amati e farci sentire parte di una comunità esatto perché c'è anche questo fatto della condivisione la recita di fronte ad altre persone allora spesso anche questo fatto delle letture viene interpretato da alcuni come diciamo una come posso dire un atto di egocentrismo dei poeti che si devono far sentire eccetera no è un atto di condivisione nel senso che un poeta va a leggere una poesia in un ambiente dove ci sono altre persone no e queste persone magari non hanno avuto la possibilità di leggere comprando il libro o altre cose comunque il poeta condivide i suoi versi il suo pensiero ad un audience che noi auspichiamo sia sempre più più vasta del resto poi ci stanno tantissimi appunto esperimenti di condivisione poi tri slam e così via insomma e che comunque attraggono anche molto il pubblico giovanile e questo è molto interessante come poi ci sarebbe anche da dire che insomma oggi si fa poesia attraverso cioè si è sempre fatta poesia attraverso le canzoni però oggi ci sono appunto generi musicali no che insomma adottano delle tecniche anche retoriche no e poi appunto io ho parlato del fatto a partire appunto da questo concetto della musicalità ora è vero che ci sono tantissimi generi poetici è più sperimentali è più tradizionali eccetera però diciamo quello a cui noi veniamo educati fondamentalmente sin da piccoli no? è il flusso melodico è il flusso della musicalità ok? quindi dell'armonia appunto armonia dalla radice indoeuropea ar che vuol dire appunto unione disposizione comune e qui ritorna il discorso della condivisione no? da questa radice ar infatti si forma la parola arte aritmetica no? e così via quindi diciamo che la poesia è qualche cosa che dovrebbe unire in questo senso appunto anche poi con Fabio Ilaria e altri ragazzi appunto noi ci diamo da fare per portare questo messaggio di Poetry for Peace no? cioè di parlare appunto della pace che molti ritengono inutile mentre invece proprio anche in questi paesi estremamente martoriati io sono stato appunto sabato scorso a un bellissimo intervento al Dragstore Museum organizzato appunto da Alessio De Cristoforo e Paola Caramadre dove c'era Marcello Tagliente che è un poeta che si occupa appunto anche di questi conflitti in termini poetici eccetera e ha portato le poesie di israeliani e palestinesi di poesie attuali in cui il messaggio era proprio questo cioè noi scriviamo per far sentire la nostra voce quindi a questo punto perché non dovremmo scrivere anche noi per loro no? e non per noi stessi come qualche volta viene banalmente detto insomma perché altrimenti tutta la scrittura è per se stessi chiunque eppure uno che scrive un romanzo dice allora l'hai scritto per te stesso allora non è degno di essere letto vabbè queste sono le solite banalizzazioni tu appunto nel tuo ragionamento ma anche nell'evento organizzato da Esquilino Poesia che tra l'altro va detta una cosa per Esquilino Poesia è sempre la giornata mondiale della poesia perché c'è sempre un appuntamento no? ho sbaglio ne inventiamo sempre una? sì quest'anno abbiamo fatto molti eventi sono stati dei reading che però avevano appunto delle tematiche specifiche l'ultimo evento che abbiamo fatto un paio di mesi fa è stato appunto Terra Madre umanità e rinascita un evento in cui abbiamo meditato e invitato i poeti a meditare, a riflettere, a comporre ad ampio raggio quindi non soltanto sul tema della pace ma proprio sulle radici di ciò che si intende per umanità da cui deriva tutto, deriva anche la pace e il rispetto per se stessi, per l'ambiente e per gli altri no? perché se non si parte da questo ovviamente siamo nella disgregazione più totale come appunto assistiamo ormai purtroppo di nuovo dico di nuovo insomma nel senso dopo così 50 anni di relativa pace relativa ovviamente perché per noi poveri occidentali, ecco per noi diciamo europei e quindi sì organizziamo questi reading e cerchiamo anche di portare degli approcci poetici diversi ad esempio adesso ci apriremo sempre di più alla videopoesia che abbiamo già introdotto il 21 marzo poi ci sono stati gli interventi dei poeti oracolari che appunto diciamo fanno queste performance di pura improvvisazione poetica e quindi in una specie tra virgolette adesso dire trans è una cosa veramente molto riduttiva però attingendo proprio alle radici profonde del sé e quindi dell'origine delle parole all'interno di ognuno di noi e questo sprigiona una serie appunto di atti che investono anche la corporeità e quindi è una diciamo come posso dire la poesia regolare è appunto questa una visione a tutto tondo proprio del che investe tutto l'essere umano tutte le sue funzioni vitali e non e soprattutto spirituali e quindi abbiamo introdotto anche questo e altri tipi di esperimenti appunto di poesia con musica e così via e per quanto riguarda me e le mie proposte io vorrei ampliare sempre di più questo tipo di sondare sempre di più questo questo terreno quello della poesia oracolare no in generale diciamo di aprirci sempre di più ai vari generi poetici ecco questo che dice molto interessante e tra l'altro è proprio un po' la domanda che volevo farti visto che tu sei stato al tavolo della presidenza degli organizzatori dei curatori dall'inizio alla fine che voci ti sono arrivate o meglio quasi in senso oracolare ecco diciamo così quindi una voce primordiale che cosa è risuonato in quella sala una poesia consolatoria una poesia di protesta una poesia di dolore una poesia che distopica che guarda al futuro che voce che suono ti è giunto all'orecchio ovviamente ti sto facendo una domanda quasi impossibile però sicuramente è che appunto noi abbiamo coinvolto veramente tanti poeti tra la mattina il pomeriggio e la sera e comunque per quanto riguarda la sera che la serata che ho condotto ho introdotto io devo dire che noi abbiamo raccolto una serie di poeti veramente molto diversi tra di loro e quindi tutte queste voci e queste esigenze interiori che tu hai appena detto erano tutte presenti quindi ti posso dire che così con un termine molto banale siamo riusciti a dare un grande affresco della della voce poetica ovviamente romana perché noi abbiamo dovuto giocare in questo senso appunto sul poeta su alcuni poeti della città di Roma ovviamente non abbiamo potuto invitare tutti ma insomma tra la mattina e la sera sono state una sessantina l'anno scorso l'acquario romano erano cento e speriamo il prossimo anno di invitarne ancora di più magari faremo una tre giorni sì c'è bisogno appunto di allargare in un momento come questo piuttosto che selezionare perché appunto come dici tu le voci sono variegate e quindi bisogna un po' creare questi contenitori in cui poi alla fine c'è un confronto un'altra cosa che volevo dire è che non è accaduto come accade di solito insomma che finiti o meglio esauriti i primi poeti i primi dieci poi vedi che la sala si comincia a svuotare mi sembra che insomma il pubblico sia rimasto e questo insomma è un'altra bella testimonianza che la poesia è capace di attirare di tenere con l'orecchio incollato alla voce appunto bene Marco io davvero ti ringrazio di averci così ricondotto in questa giornata mondiale ti voglio fare così un'altra domanda che in realtà non è una domanda è solo il pretesto per ragionare ancora insieme tu hai citato il drugstore come un esempio straordinario e sottolineo straordinario perché appunto poi il contesto generale non è così ahimè anzi quello che sta accadendo a Roma ma credo anche in altre città è che mancano luoghi pubblici dove poter declamare e dire che non servono strutture particolarmente raffinate insomma servono sicuramente luoghi un po' raccolti un po' caratterizzati tu prima citavi appunto servono luoghi servono luoghi servono luoghi poi ci pensano i poenti a caratterizzarli nel senso neanche dire servono cioè la poesia va portata ovunque anzi andrebbe portata preferibilmente anche laddove non c'è neanche la speranza della poesia ecco è molto interessante quello che tu stai dicendo perché sostanzialmente va oltre un po' la mia provocazione a Roma mancano drammaticamente questi luoghi banalmente dai piccoli teatri alle sale però tu forse hai voluto dire un'altra cosa il luogo viene creato dalla parola e cioè da chi poi si mette lì a ragionare su dove può essere più opportuno portare la parola poetica o sbaglio sì perché come ho detto appunto non per autocitarmi ma insomma per chi non mi ha ascoltato il 21 cioè come ho detto nel mio discorso noi dobbiamo recuperare diciamo il questo elemento magico della parola cioè della parola che influenza la realtà perché la parola appunto influenza gli animi e quindi di conseguenza la realtà e quindi facciamo in modo che questa parola sia curativa perché noi sappiamo che le parole possono generare amore ma possono generare anche molto odio facciamo in modo che la parola sia curativa e infatti ho terminato il mio discorso dicendo lasciamoci guarire bene Marco grazie davvero abbiamo fatto in modo insomma che la giornata mondiale della poesia non passasse così insomma come una semplice ritualità lo voglio rimarcare squino poesia così come tante altre associazioni tra cui anche la poetanza insomma organizzano spesso incontri voglio citare invece la bella esperienza di Giuseppe Spinillo insomma è sempre una giornata da dedicare alla poesia perché e con questo chiudo di poesia forse c'è più bisogno che in passato ed è proprio quel momento del tra cioè tra un momento e l'altro tra un'epoca e l'altra quello in cui prima la poesia rimaneva un po' chiusa nei circoli adesso sta mettendo piano piano fuori la testa ma non a caso succede adesso perché appunto forse di poesia c'è bisogno c'è bisogno di cura c'è bisogno ma c'è bisogno anche di rappresentare un mondo che invece se lo affronti con i soli occhiali della razionalità forse qualche numerello potrebbe non tornare invece attraverso la poesia potrebbe ritornare perché viene fuori quell'approccio totale tu prima hai fatto riferimento ai poeti oracolari ed è anche qui uno spunto straordinario perché ci dice della radice della parola che è molto profonda dentro ogni corpo ovviamente è dentro la storia dell'uomo e questo dà una supremazia una forza alla poesia importante che non si può sostituire con nulla forse con qualche arte forse con la pittura o con la musica e però appunto questo radicamento così profondo nell'animo e nella storia dell'uomo ci dicono di una di una grande di una posizione assolutamente privilegiata della poesia grazie Marco tutte le arti concorrono tutte le arti concorrono a questo però la parola è ovviamente il mezzo più diretto certo grazie Marco e torno a trovarci ciao grazie a tutti grazie a tutti